Un augurio sincero per un radioso 2022. Mi auguro davvero che ci sia una svolta per Taranto. Volutamente sono qui dinanzi a Palazzo di Città. Come sapete mi candido sindaco con un movimento Taranto senza Ilva assolutamente trasversale ai partiti, né centrodestra né centrosinistra né Movimento 5 Stelle. Lo faccio perché sogno una Taranto completamente diversa. È la Taranto che auguro per l'anno che arriva. Una Taranto che viva di mare, di risorse naturali, di turismo. Guardate che splendido cielo, che splendido mare, che sole fantastico che bacia il nostro territorio. Una Taranto che viva di storia, di cultura, di archeologia, di tradizioni. Guardate le fantastiche colonne doriche. Una Taranto che guardi a chi soffre. E in questo devono intervenire le istituzioni, cosa che non hanno fatto. Taranto non deve essere più la capitale della morte, la capitale dei tumori. La capitale deve diventare la capitale della vita. Una Taranto che deve guardare ai bambini. I bambini non devono essere chiusi in casa perché c'è l'Ilva che sputa veleno. Una Taranto che guardi agli anziani. Gli anziani devono essere una risorsa, non un peso. Una Taranto che crei occupazione e un'amministrazione comunale tanto può fare in termini di idee, di progettualità, di creare le condizioni fertili perché le varie attività imprenditoriali possano insediarsi. Lo voglio fare con voi, come sindaco. Sono convinto che tutto questo impegno che ho profuso in questi anni da cittadino, da giornalista, sia stato e sia apprezzato da voi. Vedete, andare a occupare la poltrona di primo cittadino qui a Palazzo di Città è l'augurio che rivolgo a me stesso, ma è l'augurio che rivolgo alla città non per un interesse personale, per un arrivismo, per una sete di potere, ma perché voglio essere cittadino tra i cittadini, primo cittadino ma certamente un cittadino insieme agli altri, che avrà tanto da imparare. Un cittadino, un primo cittadino che dovrà anche ricevere rimproveri quando questi sono giusti, quando questi sono costruttivi. Insieme a voi voglio disegnare, voglio scrivere le pagine più belle della nostra Taranto, con il mio impegno, con il mio entusiasmo, con la mia determinazione, anche con il mio caratteraccio. Sono una persona istintiva, sincera, dico sempre quello che penso, per questo sono scomodo. Che dirvi? L'augurio che nel 2022 saremo qui, ma a festeggiare, a festeggiare una Taranto diversa. La Taranto che io sogno, la Taranto che tutti voi sognate, la Taranto che tutti noi sogniamo. Buon 2022 a tutti!